Benvenuto a questo nuovo incontro valido per i gironi di Coppa. Prontissimi per iniziare, la tensione inizia a farsi sentire. Tutto pronto, si parte. Sanzone. Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo. Non ferma il gioco l'arbitro. Ha dato il vantaggio. Laridi. Occhio, cerca l'area di rigore. Prova ad andare, palla fuori, sarà rimessa dal punto. Pallone controllato senza difficoltà dai difensori. Palla in, fallo laterale. Occhio al contrasto. È un brutto fallo. Vediamo se l'arbitro prende i provvedimenti. Si ripartirà dal rinvio del portiere dal fondo. Garis. Hanno interrotto l'azione avversaria, recuperando palla a centrocampo. Vediamo cosa decide l'arbitro. allontana il pallone di testa. Prova in porta. Tiro largo fuori inversale. Un difensore, lo vedi al coraggio Stefano, queste immagini, da ex difensore. Era buono questo intervento? Mi sembra abbia preso il tempo all'avversario e gli ha portato via la palla. È stato molto abile e coraggioso. Laridi. Sanzone. Perde palla. Occhio al suo movimento. Grande intervento. Svetta il pericolo. Si ripartirà con un fallo laterale. Perdono il pallone. Un flipper qui, palla che finisce fuori. Palla che esce, Tuch, rimessa laterale. Hernandez. Gran tiro. Si ripartirà con il corner. Oh! Oh! Sanzone. C'è la brateria per andare. Pericolo. È tutto solo. Trova la botta. È il pallone entra. È il gol. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Perde palla. Quello molto fisico per il possesso di palla. ha un'autostrada a disposizione. Può andare via da solo. Sanzone. Grande intervento del portiere. e sarà a calcio d'angolo. Si chiude il primo tempo. Squadre che tornano negli spogliatoi. 1-0 alla fine della prima frazione. La squadra di casa è dunque passata a condurre. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Sanzone. A spazio prova. Il portiere blocca senza problemi. non trova il compagno. Palla in alto. Apre il gioco. Cerca un angolo di passaggio lì a destra. La deviazione è il pallone che finisce fuori. Tocco orizzontale. Il pallone è uscito. Sarà rimessa. Il padrone che sembra pronta a cambiare qualcosa. che sia arrivato il momento giusto. C'è bisogno di forze fresche. Cambio dunque. È un modo per dare un messaggio anche psicologico ai giocatori. A caccia del pareggio. Hernandez. Ruba bene il pallone sulla fascia. Non gli riesce il numero. Poco spazio. Palla in alto. Cerca a porta. Palla che finisce in corner. Che grande intervento. Occhio al cross. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Matusale. Ottimo il Devae. Ottima visione di gioco. C'è spazio davanti a sé. Va verso il portiere. Gran tiro. Ed è rete. Non sembra davvero avere pietà. Sembrano volersi fermare. Ancora cose. Andorra doppiato. Adesso sono avanti il larsero. Sanzone. Occhio al tiro. Pericolo. Balla in gioco. Balla vagante. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure. Parte il tiro. Refinge il primo tiro. Una parata incredibile. Balla in out. Calcio d'angolo. Fuori. Traffallo laterale. Matusale. Ottimo l'intervento. Recupera il pallone. Vediamo tutta la sua disperazione qui. Mamma mia che occasione questa tu è. avanza, cerca il movimento dei compagni. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Bravo qui. L'appoggio di testa al compagno. Buon intervento di Fazzivo sul cross. Potrebbe crossare. Buono il cross. Ci prova di testa. C'è la voglia di riaprire la gara ma la conclusione è da carcellare. C'è la prateria per andare. È tutto solo. Ecco il tiro. Rete. Splendida Rete. Ha trovato due gol. Ha confermato la sensazione di essere in grado e borma. Gli avversari devono marcarlo meglio. Un gol molto bello. Ormai sembra che gli avversari abbiano nullato. Ora conducono per tre reti a zero. E si chiude qui anche il secondo tempo. Stava quasi una passeggiata per loro oggi. E gli avversari non sono mai riusciti a metterli in difficoltà. Tutto è troppo facile. Grazie per essere stati con noi. Un saluto da Piero Gipardo. Stefano Nardi. Un saluto da Piero Gipardo. 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 Un saluto da Piero Gipardo.